Scusa 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 Ehi bacio sussupere di me e benvenuti в questo nuovissimo video Come sempre sottività che nole Da siamo ritornati ragazzi al nuovissimo Troll nella Dream Out Oggi ragazzi vi sono appena svegliato da pochissimo Perciò quello che andrò a fare è innanzitutto Cominciare a fare colazione Dopo che farò colazione ragazzi Cercherò che cosa fare perché oggi proprio ho una voglia raga di mettermi contro tutti quanti Ma perché mi voglio andare a mettere contro tutti quanti? È semplice perché il king dei troll sono io Come vi stavo dicendo ragazzi quello che voglio fare oggi ragazzi è un troll a sblito Come sapete ho dovuto sborsare 1200 euro e non siamo ancora arrivati a 50.000 like per l'iPhone che ho regalato a sblito Però dato che gli ho regalato quell'iPhone sto vedendo che lui continua ad utilizzare questo iPhone senza cover, senza protezione schermo, senza niente Cioè perciò non ne sta avendo cura ragazzi perciò oggi cercherò di trollarlo con l'aiuto di Giorgia Facendogli capire quanto possa essere delicato questo iPhone innanzitutto facendolo sparire It's just water, it's just water, it's water Si sta vindicando per ieri, si sta vindicando per ieri Questo è benissimo Sbito si è vindicato del suo telefono che è volato in acqua Nelly 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 Vatten oh quando parte parte oh mamma mia mi ha sfiorato la testa mi ha sfiorato la testa con la ciappa no no piscina 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 che bello quando faccio scattare la miccia e poi tutti aia siamo al bordo siamo al bordo adesso lo affoga adesso il spirito rimane giù non è che lo sa nuotare giorgio ragazzi è una persona che è una persona che sbrigati 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 dai però sbrigati fa schifo a nuotare e vuole continuare dai stiamo qua finché vabbè ragà io vi lascio là affoga pure sbrigato io vado buon affogamento io ragazzi ho preso e me ne vado perché se devo stare ad aspettare qua tutto il tempo non finiamo più un'ora dopo hanno finalmente deciso di uscire lei se n'è andata io sono qua seduto come tipo un vecchietto a guardare i cantieri e nel mentre c'è sbito che si è bagnato dalla testa ai piedi ragazzi mi sta venendo da ridere perché c'è zecto che è appena è appena tornato nella stream house e al momento tutto bello tranquillo lì al bordo è tipo ho una gran voglia di prendere e darla di spingerlo giù anche l'uomo oh eze ma secondo te in mezzo a queste battaglie che palla dici che sbito qualche manina la calcia lì che tocca ho preso spunto sì sbito mano furfante tocca al ragazzo no dito sei un sottomesso fatelo dire ma io vedo delle scene qua che non sono tanto vedi questo non video che ciò no ragazzi ma femmini frienti leggerli ai piedini vai che schifo schifo eze oh vai tiralo tiralo fuori tiralo fuori vabbè però è stupido vabbè ragazzi noi vi lasciamo qua 12 secondi later spesso no dai mi voglio spesso mi lo scrivo ti volevi spingere no no vabbè ragazzi non trovo nessuno nella stream house sono da solo sblito eze giorgia ci siete non c'è nessuno perché ma mi stanno a fare un troll che non c'è nessuno ussa perché mi hanno abbandonato oh ma dove siete stati tutto il tempo eh ma sei rimasto da solo da solo mi sto facendo da solo ma niente mi sono messo a cercarvi ma non vi ho trovato siamo andati al banner a fare la spesa un po' silenzio lo sentite? no spero che tu ti sia calcato addosso no aspetta no silenzio scrivetemi qui sotto i commenti se sei calcato addosso oh se ne devi un'altra se lo vinti ero se ne devi un'altra se lo vinti ero giuro si lo vanno non starà mai non starà mai guarda neanche sei in una bollione neanche sei in dai oi io vado IN. la soltanille la soltanille la soltanille la soltanille la soltanille assi l'arri di paranoia nezi Scusami signor Zubito, scusami signor Zubito. Allora, non faccio persa. Allora, c'è tutte le chitarosse. Vieni qua. Già i piedi, vai a mischi qua. No, non la! No, come andiamo! Non c'è la panetta! Vai là! Vai là! Vai là! Vai, 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 vai! Uff! Che ferro! Ah, no! Ciorgio, ma perché ce l'hai tu? Che non voglio uscire a fare un giro. Lo stai ricattando? Grita! Già che c'eri? Facciamo uno sparire Devo stare in qualche posto Sotto, 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 sotto E chi lo trova? Francia, eh? Ci mangi... Fra, ti giuro che non te l'ho preso io Non hai voluto fare il giro? Poi mi sono rottuto la cabinetta da un po' di te No, sempre, violenza no Niente violenza Non ce l'ho io il tuo telefono Non ce l'ho io Sai perché? Questo è il cameraman perché tu non gli metti mai una cover Ragazzi, è vero che tutti voi avete una cover nel vostro telefono? Ma non lo so, comunque guarda che te l'ha preso lei, non io L'ha buttato? Dove? Vai a Lollo Ma chi è Lollo? Non lo so chi è Lollo No, sento della gelosia qui Ma chi è Lollo? È il mio fratello Sì, sì Non è gelosia, non è gelosia Ah, ma tu stai chattando con uno di nome Lollo Ora dimostro Giorgio? Cioè tu sei lì che chatti con uno di nome Lollo? È sblitto È sblitto O a Lollo, ciao Lollo è mio fratello? Sì, tutti dicono che è così Scrivete qui sotto nei commenti Ragazzi, secondo voi se questo Lollo è un fratello Ma secondo me Ma è un fratello fratello? No Vado 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 Come fare a non volerlo spingere? Che è lì Non ancora Ci ho fatto la doccia Sono pulito E' acconcigliato in quella maglia Ma che c***o 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 No già già No, no già già No, no già già No, no già già No, no No, no Sì, non è giusto No, no No, no Fu un waterproof, fu un waterproof, non sping! Trai, io vorrei dal palio! Dove è? Waterproof! Fu un waterproof! Sabe! Fu un waterproof! Wow! Waterproof! Sabe, non è che ho fatto il telefono, non è che ho visto spiegato! Sbeg! No! Sai dov'è? Sai dov'è? Sai dov'è? Sai dov'è? Potrebbe essere dentro un secchio con le palline che hai appena avuto scelta! Ma è lì dentro! Era lì dentro! Wallah, era lì dentro! Era lì dentro, Fra! I calzini! No! Era lì dentro! Dietro? Sbeg! Oh, avete un telefono! Ma io! Ma non te l'ho messo io! L'ho tirato! Il tuo telefono sbegato! Il tuo telefono sbegato! Il tuo telefono sbegato! Il tuo telefono sbegato! È di nuovo in piscina! Il tuo telefono sbegato! È lì dentro, ragazzi! Ma lo sai che non lo troverà più, no? Non è qui! A few moments later! Ma sta facendo la duccia sblitto! Allora io li vado da prima! Non ce l'ho fatta! Oh! 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 E in tutto ciò, ragazzi! Sblitto non ha ancora trovato il suo iPhone! Sinceramente non ce l'ha manco chiesto Però dato che tra poco io vado in live Sarà Giorgia che poi mi dirà domani Nel vlog che uscirà dopo domani Se Sblitto ha trovato il telefono oppure no Detto ciao ragazzi scrivetemi qui sotto nei commenti Se secondo voi Sblitto ritroverà il telefono Entro un'ora oppure ci metterà di più Mi raccomando se volete ricevere un coricione da parte mia Perciò solamente quelli che sono arrivati fino alla fine di questo vlog Potranno sapere quale emoticon spammare qui sotto Spammate l'emoticon di un cellulare dell'iPhone Detto ciao ragazzi noi ci vediamo al prossimo vlog Saluto Giorgia Ciao